da Ugo, i musicisti che vedete accanto a lui, e poi chiedo a Ugo di presentare a Lulù a Lulù, se voi lo facciamo adesso. E poi ad accompagnarci in questa avventura, Nino Buonocore, e poi ad accompagnarci in questa avventura, e poi ad accompagnarci in questa avventura, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie, grazie, dunque è cominciata questa cosa così, cominciamo così, Fugo Gangne, è come prima cosa, trovo un go, l'amore e la raggia è il doppio disco di Fugo Gangne, ma soprattutto questo disco è dedicato a Amnesco e a Amnesco International, e quindi come prima cosa io chiamerei Gabriella Guido di Amnesco di Amnesco. Gabriella, spiegaci un po' che cos'è Amnesco, che cosa fa Amnesco? Allora, spero di essere veramente sintetiche perché non abbiamo degli ospiti, veramente, allora intanto grazie veramente a Ugo, grazie a tutti i suoi amici che noi conosciamo da anni, grazie alla snack che ci ospita. Il gruppo sa scegliere, sa scegliere perché per l'altro stasera vedo che lui punta sulle donne, ha due artiste stasera bellissime e brevissime, che poi sentiremo. Allora anche Amnesco quest'anno ha deciso di puntare sulle donne, noi lavoriamo in Africa da 55 anni. E quindi, le cose schifane hanno a dire una cosa sono sicurezza di un'altra avvocava il problema, ma è un'altra avvocata. ma perché? perché dopo? bambini, bambini, basta, bambini, basta facciamo la parola, amnestia è pura che mi raccoglino i un'attoria che io ne ho sposte a che mi raccoglino ne ho raccoglino Tutti il suo dormire. Isto un piacista all'occuario. E affianco il suo e ovuncio. la storia di vivere e sapere questo un color di niente Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.